Siamo qua Con Eh ma aspetta Fammelo dire a me Che sto facendo il video Per dirti Ok Ciao a tutti ragazzi Oggi siamo su As for League E come avete visto C'è un evento Che si chiama Che se spendiamo 50.000 pen Troveremo Un 3 capsulate Della bubble Home in gamma Lascialo a me Lascialo a me Va bene va bene Spagalo a te Ok ragazzi Avete tre Scelte Diciamo tre scelte Potete spendere 50.000 pen O 50k Come lo voglio chiamare Prendete 3 capsulate Di quella Ultima Home in griffle Che spara palline Diciamo Poi 100k pen Chi non so cosa vuol dire 100.000 pen Prendete Come cazzo si chiama La revolver luteus Questa qui bellissima Che è quella lì L'ultima revolver Riuscito Poi si spendete 150k Cioè 150.000 pen Prendete 8 capsulate Mi sembra Di chi Vai ripeti il nome 8 8 capsulate Ma che cavolo dici Si 8 capsulate 8 capsulate Della Metal storm Heavy machine gun Questa qui Brutta Della drago Vabbè Comunque io voglio La luteus Quindi spenderò 100.000 Ok ora andiamo tutti Su pro Chi se ne frega Aspetta Pro si Andiamo su pro Secondo le nostre scoperte Secondo le nostre Le scoperte Director Dovremmo trovare Qualcosa di per Ma se no Se no Sapete cosa Avete capito Non possiamo Ma stai dicendo Ma stai detto Secondo le teorie Ah Secondo le Non so se È una teoria Per chi non sa Cosa sono le teorie Possono essere vere E non vere Quindi Secondo noi Se voi Comprate Della roba Cioè delle capsule Diciamo In un canale Non pieno Quindi non c'è nessuno Avete Più possibilità Di trovare Qualche cosa Di limitato Ok Vabbè Io voglio prendere i pesci Anche se non mi piacciono Perché sdondolano Come Come dei cani Arrabbiati Vabbè Prenderò i pesci Visto che anche Rector L'ha trovato Forceback E Alla Aromate Alla Come direbbe Dei musulmani Che io sono musulmano Zitto Ma Va bene Va bene Ok Ok Calma Ma tu sei scemo Non devi imparare Questi cose sui video Non c'entra niente La regione Ok ragazzi Ok Prima di iniziare Volevo presentare Un nuovo compagno Sul clan RG Che abbiamo con noi Salvo 2000 Che mi ha salvato 2000 volte Ecco Vabbè Parla Volesti dire qualcosa Volesti dire qualcosa Volesti dire qualcosa Ok Non ha parole nella bocca Perché Se l'ha mangiata tutta Vuoi dire qualcosa Andati in bagno Andati in bagno Andati in bagno Che ritere Ok Dopo questa Mezza risata Vai con il video Ok Ma noi siamo già al video Come voi vedete Come voi vedete Io sto continuando a cliccare qua A comprare queste Le DHA 11 Capsulet L'ho già comprato mille volte Chi se ne frega Da 170.000 pen Sono arrivato ora A 8953 Chi se ne frega Ok Hai speso Mi un 75 Ora addirittura Sto usando una specie di bug Cioè Bug Chiamiamola così Che mi farà Comprare questi pen Ok Come vedete Abbiamo 20 capsulet DHA 11 E iniziamole subito Ad usarle Ecco il primo Vai Ripeti cosa hai trovato Ecco il primo Sub machine gun Più Dieci Mille penne Due Cosini Due Con Te devi dire Azeccato o no Si è trovato qualche significato Azeccato Ehm Quale Siamo al termine Azecca Non azecca Ok Ehm Niente Azecca anche qua Madonna Che sfigato Ehm Niente Ma che sfigato Ehm Niente Azecca Ehm Niente Ehm E lo sapevo Tanto Tanto Ehm Niente Ecco Ehm Niente Ehm Ehm Niente Madonna Oh ragazzi Ehm Niente Ehm Ehm Non azecca Non azecca Ehm Sì Niente Ehm Ehm Niente Ma donna ragazzi Ehm Ehm Niente Una capsula left penso Ehm Niente Tre capsule left scusate Niente 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 Ehm 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 No Un'altra C'è un'altra capsula left Niente Oh ragazzi Con questa Con questo Fine Fine di questo video Possiamo dire che È sul link Un gioco di merda Ehm Non è quello Ripeto Secondo me Dovevano alzare Un po' di possibilità Ma io non vedo Questa possibilità 2% in più Come hanno detto Nell'ultimo video Che Levando i coin Avranno Cioè Avranno detto Che alzavano Un po' di possibilità Di trovare qualcosa Di permanente Ma Non vedo Questa possibilità No Innanzitutto Chiariamo subito Perché hanno levato i coin Hanno levato i coin Perché così Almeno Le persone Ricaricavano i propri ap E se li andavano A comprare da soli Non Dando una Ogni giorno Come prima Quelle normali Dove c'è scritto più Non come prima Ma Se dobbiamo comprare Con Stai sbagliando Di grosso Dovevano le pare Nella nuova Season Vediamo Aspettiamo La nuova Sì Un po' vediamo Che cazzata Hanno fatto Con i coin Dovevano fare altre modifiche Nell' vecchio Per migliorare il gioco Ma Ci siamo Apriamo pure La comunicazione E' Tanto Non troviamo niente Infatti Non abbiamo trovato Niente Secondo me E' più Che aumentare le possibilità E loro lo fanno diminuire Se infatti Mi sa proprio questo Ogni aggiornamento Diventa sempre più schifoso Il gioco Per dirvi Da Da quando hanno messo in shop E da quando Smetteranno di Mettere anche Roba perma Sulla roba pen Comunque Ciao a tutti i ragazzi Da qua Da Inamic Dal nostro Amico Salvo Salvo E con noi C'era anche Prey Ma D'altro Non abbiamo Proprio Non ci interessa Prey Visto che E' uno stupido Comunque Ciao a tutti i ragazzi Bella Vedetevi questo video Godetevi Commentate Non commenti brutti Grazie Iscrivetevi E Niente Ciao a tutti i ragazzi Bella E niente Basta Abbiamo già detto troppe cose Abbiamo già detto troppe cose Abbiamo già detto troppe cose E lo so Chiudi Chiudi